E' una scommessa, una sfida importante che abbiamo fatto in quanto la fiera doveva ripartire. La fiera dell'agricoltura è un'istituzione a Lanciano, ma non solo a Lanciano, per l'Abruzzo e come fiera nazionale. E pertanto era giusto ricominciare con la fiera nazionale. Io sono orgoglioso di essere presidente di una fiera che saluta il futuro con una bella giornata di sole e con tanta gente già da questa mattina a fare la fila per entrare alle 9 di mattina. Questa è una grande scommessa, è una fiera della ripartenza, in un momento complesso, particolare. Ma è una fiera su cui si rilancia realmente quello che può essere l'attività di questo evento. Che è un evento che deve ricrescere, ovviamente, deve avere un ruolo importante come fiera di riferimento non solo a livello abruzzese ma a livello nazionale e ci sono tutte quante le condizioni. È un gran piacere essere qui ad una manifestazione alla quale siamo molto legati per la storia che ci lega alla manifestazione stessa. È in un momento in cui si riprende la fiera della ripartenza, diceva il presidente Ferrante, una fiera resiliente che resiste. E oggi siamo tutti felici per essere qui all'aperto con una giornata splendida e con gli operatori del settore dell'agricoltura che oggi presenziano numerosi sul nostro territorio.